ciao a tutti ragazzi finalmente siamo arrivati mille iscritti su youtube volevo ringraziarvi tutti questo è un traguardo molto importante per me anche il video speciale per i mille iscritti non in questi video per i mille iscritti vi ammazzo se vedo giù nei commenti grande luigi questo è il video per i mille iscritti no il video per i mille iscritti lo speciale uscirà più avanti oggi volevo parlarvi di un confronto di cuffie con i fili e cuffie senza fili qual è la differenza allora differenza sono minime queste sono le cuffie con i fili in cui io le utilizzo collegando direttamente al telefono invece queste sono cuffie bluetooth senza fili come avete visto anche nel sondaggio abbiano vinto le cuffie bluetooth volevo farvi chiarire alcune cose su queste due cuffiette cuffie bluetooth cuffie con i fili ora vedremo nel video quale sono le migliori quale conviene comprare e quali cuffie dovete utilizzare nella vita quotidiana allora ragazzi queste sono le cuffie bluetooth allora le cuffie bluetooth sappiamo che queste sono altre ce ne sono di vari tipi non tengo la custodia al momento sono facevo vedere con la custodia queste sono quelle che sto utilizzando in questo momento cuffie di fascia media contro cuffie AKG sarebbero delle cuffie quando escono nella confezione di S9 e S10 allora io vi consiglio se volete delle cuffie che non vi danno troppo fastidio per strada anche per esempio quando dobbiamo per esempio salire sulla metro salire su un treno e avere delle cuffie che dovete capire come togliere i nodi di voi è capitato come sciogliere i nodi come mettere queste cuffie dentro all'orecchio sicuramente è una cosa molto scomoda invece le cuffie bluetooth sicuramente per strada o dentro una metro anche quelle più alte di fascia alta in cui hanno riduzione del rumore hanno delle funzioni superiori rispetto a delle cuffie bluetooth wireless pure ci sono delle cuffie bluetooth wireless superiori in cui potete utilizzarle dentro alla metro o nel treno sicuramente le mettete nell'orecchio non ci sono problemi l'unico problema di queste cuffie quando si scaricano e non avete delle cuffie di riserva vi consiglio sicuramente queste qua che sicuramente con queste non avete la giornata molto più tranquilla per esempio se dovete andare al lavoro e volete sentire un po di musica andate a scuola e volete sentire la musica sicuramente con queste sono molto anche molto potenti vi consiglio la akg infatti le consiglio specialmente con i fili a chi per esempio non vuole per esempio arrivare a casa con cuffie bluetooth scariche o cuffie bluetooth diciamo che non arrivano a fine giornata le cuffie bluetooth sono molto belle da utilizzare anche molto comode però l'unico problema che si scaricano prima e poi e perciò vi consiglio di comprare delle cuffiette le cuffie di alta fascia in cui vi permette di durare ancora di più la batteria avere anche la ricarica wireless scaricarle direttamente in quel momento sicuramente un'ottima soluzione infatti poi sicuramente io mi trovo con tutte e due sinceramente mi trovo sia con queste bluetooth che le metti direttamente nell'orecchio e sicuramente sono ottime invece se le mettiamo anche a caricare dovete aspettare un pochino un'oretta un'oretta e mezza in base alle cuffie che comprate vi consiglio anche questo tipo di marca da comprare cui potete anche di spendere sui 30 euro 20 euro delle cuffie ottime io dopo 5 6 mesi ce l'ho ancora e mi trovo molto molto bene sono potenti anche bassi che le consiglio specialmente chi ama sentire musica per strada senza problemi anche molto alte però vi ricordo non cancellano di tutto il rumore esterno invece le cuffiette queste qua un altro consiglio per acquistarle per esempio se state a casa la notte vi mettete nel letto a dormire o vi sentite la musica per esempio io quando sono nervoso sento la musica o per esempio andate a correre se avete delle cuffiette che vi cadono anche quelle da bluetooth invece queste qua con i fili le inserite dentro all'orecchio però anche qualsiasi tipo di cuffia con i fili e non dovrebbero cadere facilmente invece quelle là senza fili sono anche sono anche quelle impermeabili con certificazioni ip67 o certificazioni ip68 vi permettono anche per esempio andare contro il sudore stessi tipo di pioggia ma ci sono anche cuffie bluetooth che hanno le certificazioni ip68 ip67 un pochino più corte comunque diciamo che le differenze sono minime dalle vostre esigenze se siete abituati con delle cuffiette con i fili che secondo me sono anche ottime se si scaricano mai la batteria rispondere molto velocemente alle chiamate delle cuffiette in cui sono più piccole sempre con i fili ma comunque sono molto molto migliori rispetto a queste qua che sono giganti cioè hanno dei fili molto molto grandi però le akg per esempio se andate nel treno non fare troppi fili infatti vi consiglio sempre delle cuffiette con i fili piccoline o per esempio che non fanno i nodi all'interno del telefono e che sapete se andiamo su una metro se andiamo su un treno e rompipalle sta cosa scusatemi la parola che dovete sempre snodare i fili e un'ora per snodare i fili e non potete sentire la musica invece le cuffie bluetooth avete la possibilità di sentire tranquillamente allora il mio consiglio sono in base alle vostre esigenze se amate delle cuffie con i fili e che ci sono ancora persone che hanno votato che amano le cuffie con i fili anche perché la batteria non si scarica sicuramente ve le consiglio anche queste qua sono akg sono molto potenti di audio e sono antifilo in cui non si fanno i nodi e veramente sono ottime anche per esempio se andiamo in giro o per esempio tenerli in casa sicuramente è un'ottima scelta se volete delle cuffiette invece via bluetooth anche nel treno o nella metro senza che ci mettete due anni per me per inserirle nell'orecchio sicuramente è un'ottima scelta anche perché per esempio in inverno potete anche mettere un cappuccio per coprire in cui per esempio le persone vedono che state con le cuffie avete il telefono qualcuno senza portare seccia prova a rubarvelo sicuramente si vedono molto di meno queste qua rispetto a quelle però dipende ve l'ho detto stanno anche delle cuffie che stanno hanno i fili ma sono ancora più piccoline sicuramente le trovate su amazon o vari siti o anche nei negozi fisici invece ancora un giudizio su queste cuffiette grazie ve le consiglio anche per andare che dirvi al mare ve le consiglio anche perché la kg sono delle cuffie ottime e solamente non si scaricano mai se siete andate al mare e improvvisamente si scarico le cuffie bluetooth e non sapete come fare sicuramente queste qua sono ottime io le amo ancora le utilizzo anche per la casa o l'utilizzo in giro comunque le utilizzo però comunque io per strada di solito uso queste qua però quando sono scariche utilizzo queste in caso di emergenza date tutte e due così state sicuramente tranquilli perché le cuffie queste qua a kg costano 10 euro alla fine invece queste qua di fascia media costano sui 20 30 euro una quarantina di euro comprate tutte e due alla fine di cuffiette con questo è tutto lasciate like iscrivetevi al canale e condividete i miei video ciao ragazzi ciao